buongiorno e benvenuti nella rubrica che cosa mangio in un giorno per la premessa questo video fondamentale rimando l'articolo pubblicato nel sito di cbe il cui link lo trovate sotto le info box lì troverete risposta alle domande più comuni sul crudismo ricordo brevemente che non è la quantità del cibo assunto a fare in modo che il nostro organismo prenda energia da esso ma la qualità e il come il cibo sano e quello ben digerito e assimilato ciao tutti sono le 8 e questa è la mia acqua detox preparata con una rapa rossa a pezzetti un limone e tre rametti di menta ho lasciato una notte gli ortaggi a pezzi a macerare nell'acqua e ho tenuto la bottiglia in frigo questa è la mia postazione lavoro nell'arco della mattinata berrò questo bel litrozzo a temperatura ambiente sono le 12 faccio il mio spuntino con delle belle nescole dall'albero questo è il mio tesoretto tanto per la cronaca la buccia non lavata della frutta appena colta dall'albero è modo straordinario naturale di assumere vitamina b12 sul mito della b12 e il business che c'è dietro ne abbiamo già parlato in altra sede bene ci rivediamo a pranzo eccoci qua sono le 13 e 30 con cosa pranzerò un piatto sorpresa che io amo molto la ricetta del tutto simile a quella degli straccetti di melanzana ricetta che troverete nelle info box con la differenza che ho marinato le melanzane sì in succo di limone ma ho aggiunto il succo di rapa rossa dove poi ho messo anche i pezzi di rapa rossa dell'acqua detox vi racconto brevemente l'aneddoto dietro questo piatto prima che i malpensanti ci vedano qualcosa che non è il succo di rapa addolcisce le melanzane in un modo fantastico in ogni caso già con la pressatura il gusto amaro di alcune melanzane viene neutralizzato la rapa fa il resto diciamo così e le colora simpaticamente di rosa vedendo l'effetto ho offerto il piatto a un mio amico onnivoro ed ha qui nato il melanzuto che ora lui si prepara da solo consapevole che fa molto meglio di un insaccato accompagna il melanzuto con un po di rucola e la lattuga iceberg è un bel piattone di cetrioli in insalata conditi come da testo scritto sono le 17 30 mi ricarico con un brodo vegetale freddo fatto con bacelli di piselli una cossa di sedano qualche foglia di basilico e un limone la resa è di 4 tazze io ne berrò la metà circa 500 millilitri l'altro diciamo che prenotato e ora di cena sono le 20 questo il mio menù zuppa di alghe miste 10 grammi di alghe miste e il brodo crudo l'ho preparato con peperone giallo zenzero fresco lime peperoncino di cayenne fresco cetriolo e aglio in polvere poi ho una bella insalata pantesca il link della video ricetta è nelle info box rispetto alla ricetta originale non ho messo le olive sia perché non avevo quelle siccate al sole sia per bilanciare un po meglio i grassi infine prenderò una bella manciata di noci condite direi sui 40 grammi di certo non di più me le lascerò come snack davanti a un bel film d'autore anche oggi è tutto però vi voglio lasciare con qualche dato nutrizionale giusto per far capire che non è la quantità del cibo assunto ripeto ma la qualità e qui c'è il cibo crudo 100% vegetale e il come quindi masticando non diluendo i succhi gastrici con acqua quindi non rallentando la digestione il tutto ovviamente accompagnato da un corretto stile di vita piuttosto dinamico con questo menù assumo ben 30,5 grammi di proteine per l'igienismo sono proprio borderline poco oltre al 100% del fabbisogno giornaliero diciamo che oltre i 25 30 grammi massimo al giorno non si usano prendere proprio per non acidificare il sangue con i carboidrati sono il mio 100% di fabbisogno giornaliero sono circa 130 grammi quindi io considero sempre la mia età il mio peso la mia altezza con i grassi quindi non si riferisce a tutti si riferisce ai carboidrati che devo assumere io con i grassi forse ho sforato di poco secondo l'igienismo per la dieta convenzionale probabilmente no anzi sarò pure sotto le vitamine ci sono tutte il ferro sono a circa 15 grammi quindi al 186 per cento del mio fabbisogno giornaliero quindi pure troppo l'ho preso anche in eccesso pensate un po' per non parlare della vitamina A della vitamina C dei folati ecco questi sono alcuni dati giusto per far cessare polemiche inutili bene al prossimo menù del mese di giugno grazie a tutti